L'Agenas ha pubblicato il periodico Report sulla qualità dell'assistenza degli ospedali italiani. Si apprende così che gli interventi di angioplastica coronarica con l'impianto di stente eseguiti entro 90 minuti dall'arrivo in ospedale mostrano valori positivi in termini di migliori prestazioni in Italia negli ultimi tre anni in 35 strutture. Tra queste ci sono anche gli ospedali di Agrigento e Sciacca. Intanto sono di delusione e di insoddisfazione la reazione dell'associazione Capurro, che come è noto si batte da tempo per il ritorno del Giovanni Paolo II ad azienda ospedaliere autonoma da Agrigento, all'indomani delle proposte annunciate dal manager dell'ASPE Capodieci sul futuro della rete ospedaliere e condivise con i deputati agrigentini. Nel ricordare che la stroke unit di Sciacca dal 2019 è sempre rimasta solo sulla carta, in un quadro che ha visto sempre più peggiorare la situazione all'ospedale, il presidente Alessandro Capurro definisce il progetto Capodieci, su cui naturalmente ogni decisione finale è demandata al governo della regione all'Ars, fumo negli occhi per la comunità, una sorta di film già visto con obiettivi che richiederebbero tempi troppo lunghi. Sarà difficile, secondo Capurro, pensare di poter assistere veramente all'eventuale nascita di reparti come neurochirurgia, neuroradiologia interventistica, rimanendo all'interno di quest'aspe di Agrigento. E' questo perché la sanità agrigentina fatica a garantire la normalità nei reparti già esistenti, come l'urologia, l'ortopedia e l'oncologia, solo per citarne alcuni. La sensazione prevalente di Capurro è che queste proposte del manager, se accolte, finiranno solo per affibbiare una nuova etichetta senza sostanza all'ospedale di Sciacca, mentre invece rafforzeranno altri ospedali tra loro vicinissimi, quelli di Agrigento, Canicattia e Licata, con addirittura la nascita di un terzo dea di primo livello, ipotesi di lavoro a quest'ultima che indebolirebbe ulteriormente l'ospedale di Sciacca, lasciandolo, secondo l'opinione di Capurro, abbandonato al suo destino. Se l'esperienza ha dimostrato, annota Capurro, che non si è riusciti a mantenere adeguatamente due dea in un'unica ASP, come possiamo pensare di mantenerne tre? I dubbi primari sono essenzialmente sul pericolo di dover ripartire tra tre dea le poche risorse economiche disponibili. La strada maestra, ribadisce Capurro, è quella di far tornare l'ospedale azienda ospedaliera indipendente dall'ASP ed è questo l'appello rivolto alla deputazione regionale, perché da quando l'ospedale di Sciacca non è più azienda ospedaliera, oltre ad aver visto diminuire notevolmente il numero di reparti, del personale in servizio e conseguentemente anche delle prestazioni, purtroppo è anche diventato un presidio ospedaliero poco attrattivo per molti medici, in quanto sulla base dell'esperienza di quanto è accaduto, anche nel recente passato, esiste in loro la ragionevole e comprensibile preoccupazione di poter essere trasferiti presso altri ospedali anche distanti da Sciacca. Capurro lamenta il mancato coinvolgimento da parte di Capodieci delle associazioni di volontariato. Di tutt'altro tenore la presa di posizione odierna del Comitato Ospedale Zona Diseggiata di Ribera. E' questa l'idea che Capodieci proporrà all'assessorato, quella di separare nosocome di Sciacca e Ribera, che di fatto, diciamoci la verità, uniti non lo sono mai stati, comitato che si dice felice dell'idea del manager dell'ASP di puntare sul riconoscimento del fratello di Parlapiano come ospedale di zona diseggiata e sulla qualifica di abstroc e territoriale per il Giovanni Paolo II di Sciacca. Dopo anni di lotte proposte, dice il coordinatore del Comitato Giovanni Montalbano, finalmente la direzione generale dell'ASP si fa carico delle richieste del territorio, una zona diseggiata che eventualmente riguarderebbe un'area territoriale, quella dell'entroterra, come zona particolarmente diseggiata per le criticità che presenta, criticità di tipo orografico, meteorologico associato alla scarsa manutenzione e all'arretratezza della rete viaria. Ricorda infine il Comitato zona diseggiata come esista già una proposta alla Regione presentata dallo stesso Comitato che ha permesso l'apertura dell'attuale pronto soccorso. Questo riconoscimento di ospedale di zona diseggiata potrebbe anche avviare quell'atteso piano di rifunzionalizzazione post-covid del fratelli Parlapiano che in piena pandemia ha visto l'ospedale di Ribera oggetto di importantissimi investimenti che hanno permesso al presidio riberese di dotarsi di attrezzature di ultimissima generazione e che oggi fanno del fratelli Parlapiano un ospedale all'avanguardia.